Buonasera e bentrovati gentili telespettatori. In occasione della giornata internazionale per lo sradicamento della povertà indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ricorre ogni anno il 17 ottobre, la Caritas Diocesana presenta l'annuale rapporto diocesano sulle povertà. Inermi, questo è il titolo del report ispirato alla sensazione manifestata dalle tante persone che si sono rivolte ai servizi promossi dalla Caritas Diocesana e dalle 42 Caritas parrocchiali sparse nel territorio. La diciassettesima edizione del rapporto, scaricabile dai siti www.caritasarezzo.it e www.diocesi.arezzo.it, è il frutto del lavoro silenzioso e poco conosciuto di tanti operatori e volontari che ha permesso di incontrare nel corso del 2022 2065 persone e famiglie. I dati fotografati nel rapporto evidenziano come nel 2022 si è forse allargata una forma di povertà strutturale frutto dei cambiamenti sociali in corso ormai da anni e molte famiglie e persone che già vivevano poco al di sopra della linea della povertà, salvo repentini cambiamenti, saranno sempre più costrette a uscire dal sommerso per richiedere forme di aiuto e sostegno. Ad aggravare questo lento ma costante processo sono intervenuti i negativi effetti dell'inflazione e una crescente precarietà lavorativa. Fenomeni che hanno fatto registrare anche un crescente malumore sociale con il rischio che sfoci in tensioni sociali. I giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona si sono ritrovati a Rondine, cittadella della pace, insieme al Vescovo Andrea. Vediamo com'è andata. Franco, oggi un momento importante a Rondine, cittadella della pace, la presenza dei giovani della giornata mondiale della gioventù insieme al Vescovo Andrea per ascoltare delle testimonianze dello studentato internazionale che sono particolarmente rilevanti in un momento dell'attualità così complesso. Sì, quando abbiamo pensato col Vescovo a questo incontro non c'era ancora questa recrudescenza terribile della guerra in Israele e per oggi è diventato un momento veramente di grande significato perché l'abbraccio dei giovani che tornano festosi e carichi della giornata mondiale della gioventù e che si stringe intorno a questi giovani coraggiosi che non vogliono lasciarsi travolgere dall'odio israeliani, palestinesi, i russi e gli ucraini, gli azerbaijani e gli armeni. Dolori infiniti, storie infinite di dolore che sono qui tutti i giorni a Rondine per non farsi sopraffare ma per trasformarla in speranza e impegno per la pace. Credo che sia una testimonianza bellissima anche di Rondine verso i giovani della nostra diocesi, un abbraccio meraviglioso, pieno di speranza e che abbatte a volte quelle distanze invisibili che ci sono tra Rondine e la sua terra, la sua città, la sua diocesi. È vero che quale occasione più importante, più bella di incontrarsi dopo aver vissuto già un momento come la giornata mondiale della gioventù dove ci si incontra giovani da tutto il mondo e qui ancora di più perché le testimonianze che possono ascoltare sono importanti anche per la loro vita, per il loro futuro di giovani. Sì, proprio è un gesto che moltiplica l'amore, moltiplica quello che Papa Francesco ha detto durante la giornata mondiale della gioventù, questa apertura universale e che qui può avvenire perché si rompe la catena dell'odio. Quindi credo che i giovani a Rettini e i giovani di Rondine fanno non solo un abbraccio fisico che è molto importante in questo momento, un abbraccio spirituale, un abbraccio delle culture diverse, quasi una sorta di patto non detto e non scritto ma che è quello di essere ancora di più insieme per diffondere nel mondo questa cultura del dialogo e della pace. Un bel momento ritrovarsi dopo la giornata mondiale della gioventù qui a Rondine, cittadella della pace. Qual è la testimonianza che avete portato di questa giornata mondiale della gioventù che avete vissuto a Lisbona? La nostra testimonianza che abbiamo portato da Lisbona è stato un totem dove appunto racconta alcuni momenti particolari della nostra GMG, però ovviamente le cose da raccontare sono molte, sono complesse e poi ogni persona l'ha vissuta in maniera diversa rispetto all'altra, abbiamo avuto momenti di difficoltà diversi, abbiamo avuto gioie diverse, ogni persona ha fatto in modo comunque tale che questa GMG fosse una bella esperienza e che si andasse anche a conoscere più in profondo le persone che componevano il nostro gruppo e che comunque non conoscevo così tanto bene come poi una volta ritornata a casa ho conosciuto. Nel nostro totem abbiamo cercato di raccontare questo, di raccontare i momenti vissuti, chiaramente con tutto quello che un pezzo di cartone può raccontare, perché comunque quello che abbiamo vissuto rimarrà dentro di noi, rimarrà più che altro nel nostro cuore, le emozioni sono davvero complesse da raccontare, ci abbiamo messo tanto tempo per mettere in fila i ricordi, dieci giorni che sono stati, quando eravamo lì in alcuni momenti, eterni, che il tempo non passava mai e in altri invece ti andavi a letto la sera e veramente la giornata ti sembrava passata in pochi secondi. Quindi è stato questo, è stato cercare di mettere in fila i ricordi per noi stessi, per poter raccontarci anche appunto con noi stessi quello che abbiamo provato, perché sono dieci giorni che sono un uragano di emozioni, di dolore anche, di momenti molto faticosi perché ci sono stati, ma anche di momenti di gioia veramente piena che abbiamo provato e quindi abbiamo cercato di fare questo per noi ma anche per la nostra comunità, perché quello che, quel totem che appunto abbiamo mostrato è rimasto e è ancora nella nostra parrocchia per raccontare anche alle persone che passano comunque, che sono lì, ai bambini, quello che abbiamo vissuto, per far sì comunque che questo sia un seme che poi porti frutto. Alla fine il cammino non è stato solo Lisbona, il cammino è ora, insomma, continua sempre. Oggi a Rondine, Cittadella della Pace, per testimoniare quello che è stato questa giornata mondiale della gioventù, per il vostro gruppo di Subbiano, che cosa ha rappresentato, cosa ti ha colpito di più in particolare? Per il nostro gruppo intanto, come penso per tutti, è stata una bellissima esperienza che rifarei centomila volte e è stato molto bello appunto la felicità, la gioia che Lisbona, noi in primis, si trasmetteva alle altre persone che erano lì, che saranno veramente tantissimi, circa un milione e mezzo e quindi credo che sia proprio questa la cosa che mi ha colpito di più, la felicità nei momenti anche più banali come camminare o mangiare un panino grazie al ticket che ci hanno dato a rimammare dove si alloggiava. Ecco, abbiamo visto i giovani a Rondine, Cittadella della Pace, una realtà che promuove la pace in senso concreto, facendo incontrare giovani che provengono da situazioni dove ci sono appunto conflitti e alla luce anche di questa nuova guerra scoppiata in Terra Santa continuiamo proprio ad approfondire il tema della pace e lo facciamo con un incontro che si è svolto ad Arezzo, all'auditorio Maldoducci, dal titolo Scegliere la pace e disarmare l'economia con Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova e con Don Francesco Pasetto, parroco di Lonnano. L'incontro è stato organizzato dalla rete Aretina Pace e Disarmo ed è questo l'approfondimento del nostro focus di oggi. Grazie per l'attenzione, buona visione a tutti voi, arrivederci. Don Francesco Pasetto, lei ha trattato il tema della pace nel suo libro Pacifismo profetico e Pacifismo politico, note per una teologia cristiana della pace. Quale può essere il contributo cristiano in un'epoca dove il conflitto è tornato in Europa e nella vicina Terra Santa? Io mi sono posto da una posizione che è la mia, quella cioè di sacerdote che è stato nella sua vita sempre un educatore perché ho avuto a che fare con i giovani e io non sono un politico, tantomeno non sono uno che si intende di strategie. Io ribadisco quello che poi ho esposto nel libro citato che parla di pacifismo politico e pacifismo profetico. Io auguro l'unione tra i due tipi di pacifismo, il pacifismo profetico che è quello di San Francesco e ci sono in Palestina dei sacerdoti francescani. La prefazione al libro che ho scritto è di Ibrahim Faltas che è un sacerdote francescano che propone attraverso l'educazione dei ragazzi la fusione tra i due popoli. Il pacifismo profetico però è un patifismo che rappresenta l'ideale a cui dobbiamo guardare di fronte alla concretezza delle situazioni storiche. Noi dobbiamo puntare ad un'autorità che sia sopra nazionale, non affidarci ad eserciti che sia di nazioni e che comunque siano di forze particolari perché solo un intervento che non tiene conto solo di interessi particolari può riportare la pace. Io come cristiano mi auguro solo che si capisca una cosa fondamentale che Hamas spera in una reazione di Israele che ha nienti e tutti quelli che si trovano ad abitare come palestinesi nella striscia di Gaza. Spera Hamas che ci sia questa reazione. Io posso come cristiano pregare in questo caso e mi trovo qui in Italia, non lì, perché Israele non cada in questo tranello. Il tema dell'incontro di oggi è scegliere la pace e disarmare l'economia. Che cosa significa e come si può concretizzare tutto questo? Sì, ma è già in modo particolare da tutto il secolo precedente che è emerso con chiarezza questo risultato della guerra, l'impoverimento generale. Per cui dopo la seconda guerra mondiale le nazioni che si sono ritrovate all'ONU hanno proposto di seguito tre decenni per lo sviluppo. Questo sviluppo poteva e doveva essere pagato con la riduzione degli armamenti. La riduzione degli armamenti è stata proposta con coerenza da Wilson, poi da Churchill e da Roosevelt ed è stata riproposta nello statuto proprio perché si è capito che attraverso la riduzione degli armamenti si poteva avviare concretamente quella promozione dei popoli che si dicevano allora sottosviluppati e che avrebbe portato a una pace fondata sulla giustizia. Carlo Cefalone, lei stamani ha incontrato gli studenti dell'ITIS di Arezzo per parlare di ripudio della guerra e transizione ecologica. Come si legano i due temi e qual è la loro attualità in relazione ai conflitti scoppiati in Europa e in Terra Santa? Il ripudio della guerra, voglio dire, parlando con i giovani, è andare all'origine di una situazione in cui ci troviamo mai da parecchio tempo e cioè una egemonia culturale della guerra, del pensiero della guerra che stiamo vivendo e che molti analisti considerano simile a quello che è stato il periodo pre-grande guerra, prima la prima guerra mondiale, dove si parlava di un'intera generazione che pur consapevole di andare verso quello che sarebbe stato un grande mattatoio a livello planetario. Nonostante questa consapevolezza la gente non si è ribellata, non ha avuto questo tipo di percezione di fermarsi sulla soglia dell'abisso. Nonostante gli inviti, l'appello ultimo all'inutile strage che fu poi beffeggiato in tutti i modi per quanto riguardava quello che veniva chiamato il genocito dell'Europa. Quindi in questo momento avere una coscienza critica, almeno maturare una coscienza critica nei confronti di una cultura di questo genere. Allo stesso tempo, se vogliamo andare a quelle che sono le scelte strategiche importanti, è chiaro che una conversione ecologica, cioè secondo una misura dell'ecologia integrale, comporta che bisogna dirottare gli investimenti, la finanza, l'economia su scelte che sono radicalmente per la pace e per la convivenza dei popoli. Invece purtroppo quello che abbiamo assistito in maniera progressiva è l'aumento delle spese per gli armamenti che ha superato il record nel 2022 e ci troviamo adesso come adesso di fronte ad uno scenario sempre più inquietante dal centro dell'Europa fino a quello che è un conflitto dimenticato come quello del Nagorno-Carabacca dove c'è un rischio di polizia etnica, insomma c'è proprio migliaia e migliaia di persone che fuggono, di armeni, che fuggono dall'avanzata delle truppe a zero e allo stesso tempo appunto quello che è un gigantesco vulcano che è quello della Terra Santa che è sempre pronto in ebollizione e che tendenzialmente, proprio per la sua ferocia, proprio per le ragioni che sono all'origine di questo conflitto ha una potenzialità devastante, quindi dagli esiti che noi conosciamo in questo momento. Quali suggestioni sono emerse da ragazzi questa mattina della scuola? Ma è difficile dire le suggestioni perché quando ci sono un incontro con molti giovani io ho cercato di partire da alcune immagini della comunicazione, cioè che sono le foto dell'agenzia di stampa, molte volte sono foto che vengono rimosse oppure c'è un flusso continuo dell'informazione per cui non si pone attenzione, invece bisogna stimolare l'attenzione o altro. Io penso che nei confronti di un rapporto con chiunque, ma in maniera particolare con i giovani, bisogna avere uno sguardo di lungo periodo e cioè quindi un'alleanza forte con quelli che sono i docenti, una capacità anche di porsi delle domande. Io ho dato disponibilità ad approfondire il tema anche in continuità perché è importante porre delle domande e dare anche non solamente delle risposte ma dei criteri di valutazione, quindi capire per esempio che le nostre industrie controllate dallo Stato sono tali per cui si è avuto una conversione dal civile verso il militare e si armano anche i paesi in guerra con una forte predominanza di quello che è il complesso militare e industriale, dovrebbe come dire far venire delle domande e capire come possiamo invertire la rotta, c'è la possibilità a partire anche delle scelte della finanza, di quelle che sono le scelte politiche, che non è che le persone possono pensare soprattutto voglio dire di essere ininfluenti, di dire ormai si decide dall'alto, non possiamo fare nulla, aiutare a capire, cioè di vedere, cioè di rimuovere lo sguardo, di capire ciò che accade, cercare di capire e poi cambiare le cose che sono ingiuste. Quindi io penso che il difetto fondamentale oggi come oggi è quello di dire e rimanere in una percezione del dolore, cioè di non poter far nulla. Questo penso che sia proprio la grande alleanza educativa per un cambiamento e che riguarda proprio la società civile nel suo insieme e quello di sentirsi, come diceva Don Milani, proprio responsabili di tutto. Grazie.